In quest'ultimo minuto vorrei parlare di Covid. Si parla da due giorni di proroga ulteriore dello stato di emergenza oltre il 31 di luglio. Lei crede che sia necessaria questa misura o si può sperare di chiudere questa emergenza con la fine di luglio? Io sono convinta che dobbiamo continuare nell'efficacia delle azioni che abbiamo messo in campo e nell'efficienza del sistema. La foto del generale Figliuolo certifica che noi abbiamo oggi una campagna di vaccinazione che sta funzionando. Siamo fuori dall'epidemia? No, non ne siamo fuori. Questo lo dobbiamo sapere. E per costruire un percorso di normalità e di nuova normalità dobbiamo essere pragmatici e dobbiamo poter intervenire con organizzazione, celerità e semplicità. Quindi se serve lo stato di emergenza per poter fare questo... Visto che si parla anche della possibilità di togliersi la mascherina, secondo lei dobbiamo aspettare fino al 15 di luglio o è bene che la politica prenda atto della realtà? Tutti oramai, nei limiti del possibile e fuori di casa, se la tolgono la mascherina, all'aperto. La politica, in questo il Presidente Draghi è stato bravissimo e molto efficace. La politica deve semplificare la vita dei cittadini e tutelarne la salute. Se i medici ci dicono che i dati sono tali da permettere un anticipo, come l'abbiamo fatto su tante altre misure, lo faremo il prima possibile. Quindi semplicità ed efficacia degli interventi. I politici che dicono, secondo me, da scienziata lo dicono, non fanno il loro lavoro. I politici facciano e si assumono la responsabilità delle scelte. Grazie Ministra Bonetti.